Ehi, fermo, fermo, tu che già stai scrivendo qua sotto, calma, lascia un bel like, guardati il video e poi se ti resta qualche dubbio, lo scrivi qua sotto. Buona visione. E vi ricordo di schierarla prima delle 15, di sabato le 15 perché ci sarà Spal Bologna. Iniziamo subito appunto con l'analisi di questo match. Diciamo che è una sfida tra due squadre che hanno vinto l'ultima partita, c'è ovviamente Antenucci da un lato che potrebbe essere affiancato o da Floccare o Paloschi, ci sarà questo ballottaggio, ma anche Lazzari può essere schierato insieme a Viviani e Curti. Ovviamente parlo di un fantacalcio a 10 perché magari con meno partecipanti avrete giocatori un po' più forti e più schierabili. Per quanto riguarda il Bologna, sia Zemaili che Destro possono essere schierati, Destro sempre in forma, insieme a Di Francesco, attenzione perché potrebbe giocare anche Verdi, non si sa ancora se partirà titolare o meno. Per quanto riguarda invece il primo big match è Lazio-Juventus, si gioca alle 18, qui ovviamente è leggermente favorita la Juve perché sta un po' correndo per lo scudetto, però la Lazio che è appena uscita dalla Coppa Italia forse avrà molta voglia di portare a casa dei punti in questo match. Ovviamente Milinkovic, Savic e Immobile, da un lato sono da schierare, forse un po' meno Luis Alberto che potrebbe comunque far bene lo stesso. Parolo, nonostante io ce l'abbia, sono indeciso se schierarlo o meno perché potrebbe prendere dei cartellini, così come la difesa. Per quanto riguarda la Juventus mi aspetto buone cose da Douglas Costa e Di Palla nel caso giocasse titolare anche lui. Poi Manzucchi deve assolutamente fare qualcosa di più rispetto alla partita di Coppa Italia, quindi vedremo se sarà così e vedremo anche se Alexandro che, ricordo, al fantacalcio spunto difensore, sarà schierato in attacco. Poi abbiamo Napoli-Roma ragazzi, un altro big match, si gioca questo sabato sera. Ovviamente la Roma deve veramente dimostrare di non avere tutto questo distacco con il Napoli e con la Juventus, quindi secondo me ha la possibilità di portarsi a casa dei punti. Però deve fare una grandissima partita, il Napoli un gol almeno lo farà, quindi il reparto offensivo del Napoli è da schierare. Un po' meno forse ai terzini, stessa cosa però quando riguarda la Roma dove magari Nainggolan, però Tiander, possono far bene. E Zeco, se non avete attaccanti ovviamente migliori, è comunque da schierare nella speranza che vi porti qualche bonus. Attenzione però ai difensori, sia i centrali della Roma e i terzini possono prendere qualche ammunizione. Per quanto riguarda Genoa-Cagliari, ovviamente Amarassi, il Genoa è una squadra solida, tra l'altro abbastanza in forma. Vi consiglio così come scommessina magari Iliamark, oltre all'Axalt e Pandev che comunque è abbastanza in forma anche lui. Cagliari invece che ha bisogno di un po' di riscatto, ovviamente la sconfitta con il Napoli era un po' prevista, però si può riscattare. Attenzione a Pavoletti che è un ex, insieme a Gio Pedro e Varela, magari possono fare qualcosa e portare magari anche un più uno, un assist per un gol di Pavoletti, chissà. Poi abbiamo Chievo-Sassuolo, questa sfida è abbastanza, secondo me, equilibrata. Non ci sarà Berardi, per fortuna dei propri allenatori in pratica che ce l'hanno. Quindi forse Babacar e Politano nel Sassuolo possono far qualcosa. Per quanto riguarda la difesa, anche Acervi può essere schierato. Nel Chievo invece, non si sa se giocherà ancora inglese perché ha avuto una condusione, ma potrebbe facilmente recuperare. Dovrebbe tornare a titolare Birsa e forse Meggiorini ad affiancare appunto inglese. Castro potrebbe essere una buona scommessa perché un buon voto, secondo me, lo può portare a casa. Per quanto riguarda invece Atalanta-Sampdoria, una bella sfida questa. Secondo me equilibrata potrebbe finire ad esempio un 2-2, un 1-1-1. Abbiamo l'Atalanta che è uscita dalla Coppa Italia, quindi a voi anche essa di riscatto. Cristante è da schierare assolutamente. Per quanto riguarda le difese preferisco quella dell'Atalanta, mentre della Sampdoria ovviamente Coiarella e Zapata non si possono lasciare fuori i ragazzi. Anche se potrebbe giocare Caprari a posto di Zapata e farlo entrare poi al secondo tempo come è stato appunto nella scorso match dove ha spezzato anche un po' la partita con quel gol veramente magistrale. Per quanto riguarda il centrocampo, ovviamente appunto vi ho consigliato Cristante e Froiler si può anche schierare Ramirez e Torreira dall'altra parte, però attenzione a Torreira perché potrebbe essere molto pressato. Passiamo a Benevento-Roma ragazzi, qui sfida per la salvezza ovviamente. Se avete qualche giocatore del Benevento come Ghilerme e Koda vi potete dare una chance e non fatta calcio a 10, però solo se non avete scelte migliori è davvero una stessa cosa, ma con Kinn e Petkovic che sono quelli che possono portare facilmente dei bonus. Poi abbiamo Udinese e Fiorentina ragazzi. In questo match vedo magari Barak e Youngto come sempre ve li consiglio perché possono portare loro dei bonus o comunque dei buoni voti insieme a Widmer che spesso si trova in zona d'attacco. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina, attenzione a schierare i terzini che possono subire un po' le avanzate di Widmer e di altri giocatori. Veretù, Chiesa sono da schierare, come sì, come Simeone si può schierare, vedremo se verrà schierato anche Falcini e l'incoppia con Simeone come è stato se non sbagliato nella scorsa partita. La Fiorentina potrebbe adottare un modulo un po' strano, state attenti a questa cosa. Poi abbiamo Torino-Crotone ragazzi. Qui il match interessante è perché il Torino non può assolutamente sbagliare questo match, deve vincere la partita, vedremo se sarà così perché il Torino non è una squadra proprio semplicissima da affrontare, però Iago Falc, Belotti e Niang sono assolutamente da schierare. Invece i centrocampisti magari qualcuno si può segnare ma altri possono prendere anche dei cartellini gialli. La difesa però si può schierare così come Siriu. Dall'altra parte vi sconsiglio un po' tutti i giocatori, proprio se volete fare qualche scommessa come Budimir, ma non avrà partita semplice contro Gullu e Moretti, verrà ammarcato abbastanza bene. Vedremo se il Crotone riuscirà a fare punti. Poi abbiamo l'ultima sfida, l'altro big match ovvero Milan-Inter, una giornata ricca ricca di grandi partite. In questo derby l'Inter deve un po' veramente rialzarsi, darebbe un murale, una vittoria, però vedremo se ci riuscirà. Perisic, Icardi sono da schierare così come anche Candreva, vedremo se giocherà la Rafinha titolare, preverà messo Karamou o qualcun altro. In ogni caso nel Milan, che è la squadra un po' più in forma, che corrono veramente tantissimo, i vari Bonaventura, Suso, Cotrone sono da schierare forse un po' meno c'è la Noglu che magari da calcio da fermo però potrebbe anche portare il bonus. Attenzione però ai difensori, soprattutto ai terzini perché Perisic potrebbe mettere in difficoltà magari Calabria, a meno che non fa una super partita, scavetto e cose varie. Per quanto riguarda i portieri, non so veramente chi decidere, chi prendere dei due perché secondo me Andanovic potrebbe fare una buona partita o comunque subire meno gol, magari con una vittoria dell'Inter o con un pareggio, però Donnarum secondo me una parata buona la farà e quindi potrebbe anche prendere un buon voto. Se non avete scelte migliori di questi due portieri potete anche schierarli. Detto questo ragazzi, pollice all'insù, se avete qualche piccolo dubbio, scrivete uno qua sotto non mi scrivete tutta la rosa perché non ho il tempo di farvi la formazione, ma di darvi qualche dritta sì. Ci vediamo con un prossimo video, supportate sempre il canale e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!